Tu sarai con me, spazio senza limite, con me La nostra dolce bionda! Yeah! Davide, andiamo a vedere la foto con la quale dovete giocare Manifesto d'amare Eh? Ma stavo leggendo Ah già leggeva, Manifesto d'amare Ti ha anticipato Davide, hai visto? Eh beh, sì Sì, no, va bene, grazie, mi aiuto Guarda che grande questa frase, mamma mia Eh sì, una, due, tre, quattro, cinque, sei parole compongono questa frase Ora però c'è il viaggio e lo scopriremo con una musichetta Andate a Cuba Vai Cuba Viaggio, viaggio, viaggio No, no, per un pelo Allora, N di Nespole N di Nespole Ok, dai Andiamo a prendere Cuba, vai Davide, Cuba Cuba 300 300 La S di Scaloppine Scaloppine Allora, vai Davide, vai E torna tutto nelle mani di Alice, vai Alice, rivendimi la situazione, vai Manifesto d'amare, vai 100 euro Vediamo Alice La B Di Berite Berite Come mai tutto questo francese, Alice? Mi piacciono le lingue stranieri Hai fidanzato francese? No, no, catanese come me Ah, allora andiamo da Clara, Clara, vai a Cuba Sì Vai 200 La R di Righello La Righello, anche prima l'hai detto, vediamo un po', bene Allora, guardiamo adesso questa frase Manifesto d'amare Quali sono i manifesti d'amare, secondo te, Clara? Non saprei Non saprei Quelli che si mettono al mare oppure che parlano di qualcosa che ha a che fare con il mare? Tira Meglio Vai Cuba Ecco, 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 ecco È incredibile, incredibile, Davide Ma che c'è una letteratura, veramente Eccola, 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 eccola Cuba E adesso, Davide, se vuoi andare a Cuba, devi trovarmi una consonante M di mare Vediamo E vai a Cuba Eccola La nostra Italia System Ti accompagna Cuba Sulle note di questa famosissima canzone E a questo punto, allora, possiamo riprendere il gioco E allora, Davide, gira Posso comprare una vocale? Eh, certamente Con zero euro, però, non puoi Devi avere nemmeno 200 E vai E gira la ruota Allora, 2,50 La D di Dattaro Vediamo Guarda, guarda questa frase, dai Pensa al manifesto da mare Che poi ultimamente non è solo da mare Perché anche la montagna, da tutto Ogni occasione è buona Allora, adesso posso comprarla? Certamente La U di... La U Vediamo Quindi il manifesto dove va? Ecco, ci mostra Va lì, l'ho capito Tira ancora la ruota, Davide Dai, 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 dai Vediamo se riusciamo 350 La B di Branzino Di Branzino Ecco qua Pensa che non è solo da mare, eh Perché oggi, devo dire, anche quando Non c'entrerebbe, eppure Sul manifesto Sul manifesto Gira la ruota, Davide 650, eh Do la soluzione Vai Sui muri La modella indossa bikini Sui muri la modella indossa bikini Oggi anche per pubblicizzare un orologio Eh? Anche una macchina bisogna stare in bikini Sì, sì Ma andiamo all'ultimo round Quarto ed ultimo round Gira la ruota Indossa il bikini o il monochini? Ah, piccolo mini bikini Mini bikini, spiaggia, eh Andiamo a vedere la frase Acrobata al contrario Acrobata al contrario Vai con le lettere G G S L 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 Supernota Davide Cammina a testa in giù Bravo Davide Cammina a testa in giù Ma chi la ha detto Cascola, andami male Adesso Siamo all'ultimo round Ci sono 1000 euro protetti da due bancarotte Vediamo l'ultima frase con la quale dovete giocare E parliamo di mia acrobata Trucco per perdere peso Trucco per perdere peso Gira la ruota Davide 1000 euro 200 M di margherita Margherita No non c'è la margherita Alice Tu non hai problemi di peso Sei magrissima Devo dire Però mangio Però ma bisogna mangiare Fai molto sport No Ha di costituzione proprio Per fortuna Allora andiamo a vedere invece chi ha problemi O comunque pensa nei veri problemi Qual è il trucco Qual è lo stratagemma Che utilizza per perdere peso E allora gira la ruota Alice Vai Passa Passa I tacchi Però quanti centimetri sono Una decina Una decina di centimetri Ma il tuo ragazzo non è geloso? Bisogna essere gelosi E le cose effettive Quindi assolutamente noi Non sa che vieni vestita tutta così un po' Certo L'abbiamo scelto insieme Ma avete scelto Come si chiama? Antonio Buongiorno